Entrare ancora nella cella Dove Padre Pio ha dimorato Qui a San Marco la Catola E entrare nei ricordi Ecco il tema anche Di queste nostre trasmissioni Nei ricordi materializzati Ecco da cucchiai addirittura Da bende, da foto Dall'attestato di vestizione di Padre Pio Piuttosto che dal suo foglio matricolare Cioè il foglio che attestava Che lui aveva fatto il servizio militare Piuttosto che dagli abiti sacri Da lui indossati Dalla pianeta Dal Gesù bambino Che lui tanto amava I ricordi Ciò che abbiamo nel cuore I pensieri Devono essere ascoltati L'abbiamo detto L'abbiamo detto anche consigliando No? Le famose pidule spirituali Perché Se noi non Ci riconciliamo Con i nostri ricordi Con i nostri pensieri Scientificamente È stato provato Che Rancori per esempio Pensieri negativi Poi Ti portano a stare male Perché Le persone possono Senza volerlo Psico si dice Somatizzare E quindi Si inizia a riversare Il proprio malessere interiore Sul malessere fisico Allora Che cosa bisogna fare Per guarire il cuore? Convertire i pensieri Bisogna Riconvertire il tutto Con la speranza Bisogna rincarare La dose Delle pillole Di spiritualità Che abbiamo prescritto In queste Nostre puntate Con una forte Dose di speranza Il mondo di oggi Come il mondo di ieri Ma anche il mondo di domani Ha bisogno Di speranza Il mondo ha bisogno Di una Innezione Di speranza Di vita Perché è la speranza Che mi porta A cambiare I pensieri negativi A trasformarli In positivi A riattivare il mio cuore Quando il mio cuore È malato Ed è malato Di sclerocardia Che è la malattia più grande Di cui una persona può soffrire Che oggi E di cui oggi L'uomo soffre Cioè avere il cuore Freddo Stanco Insensibile Il cuore deve essere sempre vivo È meglio un cuore Che È Ferito Un cuore Da cui esce sangue Anziché Un cuore spento Un cuore Che È lì Batte pure Ma non trasmette vita È la forza della vita È la speranza Noi ci vediamo domani Padre Pio TV Dritto al cuore Ciao a tutti Il cuore Sì L'uomo soffre